Io sono l'ingegnere Nicola Furcolo di H-Software, redazione di Biblusnet. Vi do il benvenuto a questo nuovo webinar sul Superbonus 110, edizione straordinaria di agosto. Perché è un'edizione straordinaria? Perché, se ricordate, negli ultimissimi giorni di luglio, negli ultimi giorni di lavoro, prima che la redazione di Biblus andasse in vacanza, eravamo rimasti facendo delle ipotesi su quello che era il quadro normativo relativo al Superbonus, e in realtà, proprio nei primi giorni di agosto, si sono susseguiti una serie di eventi, in particolare sono stati emanati i provvedimenti sia dell'Agenzia delle Entrate che dei decreti del Mise. Quindi ci è sembrato opportuno dover fare un'edizione straordinaria proprio per mettere un po' a punto, per capire qual è il quadro normativo e come si sta evolvendo la situazione relativa al Superbonus, quindi il quadro normativo. Detto questo, prima di entrare nel vivo del Superbonus, vorrei approfondire un secondo con voi come è possibile interagire con noi. Quindi, con me, in questo caso, vi ricordo che sono da solo, quindi non ci sarà purtroppo Chiara che in questo momento sarà al mare, come siamo stati abituati nei precedenti webinar, dove c'era la mia collega Chiara, l'architetto Chiara Roberto, che ci dava una mano nelle risposte alle domande che formulavate in chat. Questa volta sono io da solo, quindi potrete comunque rivolgere le vostre domande. Cercherò io, in momenti precisi, in alcuni momenti di andare a leggere e cercare di interagire con voi. Ma vediamo un attimino come si fa. Nella parte altra della finestra dovreste trovare un bottoncino, una nuvoletta, un fumetto. Potete accedere come guest, potete accedere come guest e quindi inserire il vostro nome, inserite il vostro nome e a quel punto potete interagire con noi. Ma vedo che dovrebbero, da uno sguardo, dovrebbero già esserci un po' di persone. Vediamo. Sì. Ok. Quindi, vedete, ripeto, nella parte alta della finestra c'è un fumetto. Cliccate lì sopra, quindi una nuvoletta. Vi comparirà una scritta guest. Potete accedere come guest oppure potrete erlogarvi al servizio. E a quel punto... Ok. Buongiorno. Chiedo se a livello tecnico è tutto a posto. Tutto bene, ok. Leggo che qui si dice che non si capisce nulla. Non so se abbiamo problemi audio. Mi confermi che va bene. Se mi confermate cortesemente che sentite tutti bene, io in questo momento riesco a leggere nella chat. E leggo adesso sì. Quindi mi confermate che l'audio arriva bene. Benissimo. Forse c'è stato qualche problema iniziale. Bene. Detto questo... Ok. Ritorniamo alle nostre slide. Benissimo. E a questo punto possiamo iniziare a parlare del super bonus. Benissimo. Prima di entrare nel vivo, faccio un attimo una piccola panoramica su quello che è il super bonus, quindi su questa misura fiscale. In particolare, il decreto rilancio, il decreto 34 del 2020, ha previsto una serie di novità a seguito del lockdown che ha colpito il nostro paese. Quindi, di fatto, con il decreto rilancio si cerca di far ripartire l'economia, in particolare facendo leva su quello che è il settore edilizio, che è certamente trainante per l'economia italiana. Dunque, si prova a far ripartire l'edilizia incentivando gli interventi di tipo energetico e di tipo sismico, quindi riqualificazione energetica e riqualificazione sismica. Dunque, il decreto rilancio introduce delle misure. Ci troviamo, se non erro, al 17 maggio, quindi all'inizio della fase 2, quindi dove si prova a rilanciare il paese. Successivamente, dopo 60 giorni, esattamente dopo 60 giorni, quindi all'inizio della fase 3, il decreto rilancio viene convertito in legge dalla legge 77 del 2020. Questa legge ha portato una serie di modifiche. In realtà sono certamente delle modifiche migliorative rispetto a quanto aveva previsto il governo inizialmente. Infatti, vedremo dopo a breve anche quali sono stati gli interventi da parte della Camera, che ha inserito questi emendamenti al decreto legge, al decreto rilancio. Dopodiché eravamo rimasti in attesa dei decreti attuativi del MISE. In realtà, inizialmente, si pensava fosse soltanto uno. Poi ne sono stati emanati due. Vedremo quali sono. E infine, eravamo rimasti in attesa del provvedimento delle entrate, una circolare che spiegasse quali fossero le modalità attuative per la cessione del credito, di cui parleremo tra poco. Questo era un po' il quadro normativo. Vediamo di cosa parliamo oggi. Oggi parliamo di super bonus. Tratteremo gli aspetti generali. Dopodiché parleremo, vedremo, gli decreti attuativi del MISE. Vedremo i provvedimenti delle entrate. E infine, cercheremo di rispondere alle vostre domande. Quindi cercherò, stesso io, di leggere, magari mi fermerò alla fine di ogni capitolo, cercherò di fermarmi e prerò a dare una risposta alle domande che vorrete farci. Dunque, detto questo, entriamo nel vivo della questione e iniziamo a parlare rapidamente degli aspetti generali. Faccio una piccola premessa. Non starò più lì a dedicare tanto tempo a quelli che sono gli aspetti generali perché di fatto li do per acquisiti. Ne abbiamo già parlato tante volte. Quindi oggi ci soffermeremo un po' di più sui decreti attuativi del MISE e sulla circolare delle entrate. Ecco, aspetti generali. Rapidamente ne abbiamo già parlato poc'anzi. Il DL34 introduce una nuova misura fiscale denominata, chiamata dalla stampa Super Bonus 110% che consente ai cittadini dopo vedremo chi sono i destinatari in primis quindi chi sono i beneficiari dell'aggivolazione consente una detrazione fiscale del 110% per interventi di efficientamento energetico interventi antisismici e questi sono gli interventi principali dopodiché sono previsti tutta un'altra serie di interventi secondari trainati prima di iniziare è fondamentale l'ho detto già in altri webinar lo ribadisco, è fondamentale fare il punto sulle norme di riferimento quindi concentriamoci un secondino sulla slide guardiamo le norme di riferimento è fondamentale perché nel corso del webinar ma anche nel corso della vostra professione quindi dell'attività vi troverete a dovervi scontrare con queste leggi quindi è fondamentale ricapitolarle e ricordarle dunque DPR 380-2001 è il testo unico per l'edilizia che disciplina tutta l'attività edilizia in particolare ricordiamoci l'articolo 3 che definisce una serie di che definisce gli interventi edilizi tra l'altro vi ricordo rapidamente che l'intervento di demolizione e ricostruzione inteso come ristrutturazione ha subito delle modifiche importanti ad opera del decreto semplificazioni appena emanato qualche settimana fa quindi facciamo molta attenzione a questa cosa è prevista espressamente la possibilità anche della variazione di sagoma di sedime e addirittura di volume qualora ce ne fossero le condizioni poi casomai se ci sarà un po' di tempo alla fine ne parleremo quindi importantissimo il DPR 380-2001 che disciplina l'attività edilizia e i vari interventi dopodiché guardiamo ancora le slide parliamo della legge 296 del 2006 stiamo parlando della legge finanziaria per il 2007 quella che ha introdotto l'eco bonus quella che ha introdotto le agevolazioni fiscali in materia energetica quindi per interventi di riqualificazione energetica in particolare i famosi commi 344, 345, 346 e 347 questi sono i commi che introducono tutti gli interventi a carattere energetico ricordiamocela dopodiché fondamentale è il decreto legislativo 192 del 2005 che individua quelli che sono i criteri generali quindi tutti gli aspetti generali fornisce tutte le definizioni di fatto è il decreto legislativo sulla prestazione energetica quindi è fondamentale inoltre passiamo al DL 63 del 2013 che è stato poi convertito nella legge 90 del 2013 la famosa legge 90 che ha inserito tutta una serie di benefici che ha esteso il super bonus il bonus non si parlava ancora di super bonus aveva previsto l'eco bonus aveva previsto un innalzamento della percentuale di detrazione dopodiché lo stesso DL 63 come convertito in legge 90 prevedeva l'emanazione da parte del decreto in realtà è un decreto interministeriale quindi da parte di più ministeri dei decreti attuativi che in particolare poi sono stati pubblicati nel 2015 il 26 giugno 2015 sono i famosissimi le linee guida APE quindi per l'attestato di certificazione energetica il DM sui requisiti minimi il DM sulla relazione tecnica quindi questi sono i tre decreti attuativi fondamentali fondamentali per tutta l'attività che andremo a fare per tutta l'attività di progettazione che andremo a fare per il super bonus super eco bonus inoltre ricordiamoci bene il decreto ministeriale 58 del 2017 il DM del 28 febbraio 2017 questo definisce i criteri le linee guida sulla classificazione del rischio sismico delle costruzioni quindi degli edifici degli edifici linee guida sul sisma bonus dopodiché bene il DPR 917 dell'86 è fondamentale perché definisce tutte quelle che sono le regole sulle imposte sui redditi e in particolare ricordiamoci l'articolo 16 bis 16 bis che fornisce fornisce tutte le specifiche sulle detrazioni fiscali quindi fondamentale l'articolo 16 bis infine il decreto rilancio DL 34 del 2020 come convertito in legge dalla legge 77 del 2020 legge di conversione quindi legge rilancio questo è il quadro normativo di riferimento che avevamo fino a qualche giorno fa poi nei primi giorni di agosto sono stati emanati dal dal MISE quindi dal decreto dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con altri ministeri i decreti adottativi in particolare parliamo del decreto requisiti ecobonus è stato chiamato così dallo stesso ministro stato denominato decreto requisiti ecobonus e decreto asseverazioni infine abbiamo i provvedimenti delle entrate che in particolare sempre nei primi giorni di agosto hanno pubblicato la circolare 24e del 2020 e il provvedimento dell'8 agosto che definisce i modelli per l'opzione relativa alla cessione del credito a terzi oppure alla cessione del credito sotto forma di sconto in fattura per l'impresa che esegue i lavori questo è il quadro normativo di riferimento tutte queste norme le dobbiamo conoscere bene vi ricordo una cosa molto importante ne approfitto queste slide potete scaricare questa è la nuova versione delle slide potete scaricarle a questo indirizzo chiederei alla regia di inserire l'indirizzo in sovrimpressione è www.h.it slash slides scritto slides trattino centrale super bonus trattino 110 quindi potete scaricare queste slide potete farlo già adesso sono già caricate in questo momento sul sito si tratta della versione 7 perché di fatto nel corso del tempo nei vari giorni nelle varie dirette che abbiamo tenuto abbiamo di volta in volta aggiornato queste slide inserendo ogni volta le novità normative vi ricordo che a differenza delle precedenti questa versione nelle slide ha qualcosa in meno sugli aspetti generali che oramai diamo per acquisiti su Biblusnet abbiamo fatto un sacco di articoli di approfondimento quindi di fatto trovate già tutto lì relativamente alla parte generale quindi a quello che era stato definito dal decreto rilancio e dalla legge di conversione in questo slide faremo comunque una panoramica sui criteri generali ma ci concentreremo di più sulla parte applicativa attuativa così come definita dai decreti del mese bene detto questo possiamo entrare nello specifico della questione e vediamo in cosa consiste l'agevolazione abbiamo detto si tratta di una misura fiscale una misura fiscale del 110% che consiste nella possibilità da parte di chi sostiene la spesa di detrarre dall'IRPEF il 110% delle spese sostenute per alcuni interventi edilizi in uno specifico arco temporale in un preciso arco temporale che è pari a 18 mesi quindi dal primo luglio del 2020 al 31 dicembre del 2021 e qui già sorgono i primi problemi infatti parecchi lo leggo nei vari articoli lo leggo un po' dappertutto sui social di fatto in molti si stanno lamentando sull'arco temporale in realtà è un arco temporale ristretto lo stesso ministro dello sviluppo economico ha affermato che stanno cercando di lavorare per estenderlo ma non è garantito quindi al momento l'arco temporale è questo è chiaro che per i condomini diventa complesso muoversi vista tutta la burocrazia ma dopo parleremo anche di questi aspetti e vedremo anche le semplificazioni che sono state previste proprio per i condomini quindi ricordiamoci che l'arco temporale è ristretto il governo lavorerà l'ha promesso lavorerà per allungarlo è chiaro che ci vogliono le coperture economiche e non è facile perché stiamo parlando di coperture davvero importanti e quindi ricordiamoci che la spesa deve essere sostenuta entro il 31 dicembre del 2021 benissimo abbiamo fissato l'arco temporale vediamo di cosa si tratta l'agevolazione agevolazione straordinaria perché per la prima volta ci troviamo di fronte ad un bonus che prevede una percentuale di beneficio addirittura maggiore dell'importo speso quindi una percentuale di detrazione maggiore del 100% in particolare 110% prima agevolazione seconda agevolazione a differenza delle vecchie detrazioni fiscali o della maggior parte delle vecchie detrazioni fiscali questa detrazione fiscale è ripartita in 5 anni invece che in 10 quindi di fatto di fatto è possibile usufruire della detrazione in tempi più brevi ma infine il vero vantaggio di questa nuova detrazione è la possibilità di poter cedere il credito maturato a terzi a terzi tra cui sono inclusi anche gli istituti di credito gli istituti finanziari quindi le banche e le poste oppure è possibile cedere questo credito sotto forma di contributo che coincide a uno sconto che l'impresa che esegue i lavori potrà effettuare in fattura direttamente al contribuente quindi di fatto questo sconto potrà essere pari al massimo all'importo totale della fattura ovviamente lo sconto non potrà essere superiore al 100% nel senso che non si potrà avere una fattura negativa si potrà avere una fattura al massimo pari a zero oppure poi dipenderà dall'accordo che dagli specifici accordi raggiunti tra il committente e l'impresa che segue i lavori bene guardiamo la slide vediamo chi sono i beneficiari del del super bonus il super bonus spetta a sei tipologie di soggetti quindi ci riferiamo all'ambito soggettivo parliamone ora perché in questo ambito sono intervenuti sia il ministro il mese sia l'agenzia delle entrate ma di fatto è già specificato in maniera abbastanza chiara e precisa dal dl rilancio vediamo l'ambito soggettivo quindi chi sono i beneficiari dunque in primis sono i condomini i primi beneficiari dell'agevolazione dopo abbiamo le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa arti e professioni e questo lo chiariremo dopo cosa vuol dire quando vedremo la circolare delle entrate che ha chiarito bene questa questione gli istituti autonomi case popolari le cooperative di abitazione a proprietà indivisa poi dalla legge di conversione è stato introdotto anche il terzo settore quindi le associazioni di no profit onlus infine le associazioni e le società sportive dilettantistiche quindi questi sono i sei beneficiari del super bonus 110 bene prima di entrare nello specifico è fondamentale capire la gerarchia degli interventi guardiamo questa slide e capiamo questa gerarchia dunque abbiamo quattro tipi di interventi principali quindi quello in arancione questa è un'infografica che esprime secondo me in maniera chiara e precisa la gerarchia degli interventi quindi interventi principali anche detti trainanti sono questi quattro arancione giallo verde e azzurro quindi i primi tre fanno riferimento a interventi a carattere energetico quindi isolamento termico isolamento termico dell'involucro sostituzione di impianti con lavori su parti comuni quindi stiamo parlando espressamente di lavori su parti comuni quindi condomini sostituzione di impianti su unità singole questi sono gli interventi stabiliti dal comma 1 qui li abbiamo definiti c1a c1b c1c perché sono stati definiti nell'articolo 119 del dl34 come modificato dalla legge 77 2020 al comma 1 lettera comma 1 lettera b comma 1 lettera c quindi questi sono gli interventi principali inoltre abbiamo come intervento principale trainante il comma 4 che definisce gli interventi relativi al sisma bonus quindi quelli di miglioramento barra adeguamento sismico benissimo questi quattro interventi principali possono essere realizzati direttamente quindi sono interventi trainanti se realizzo uno di questi ad esempio soffermiamoci sulla parte energetica quindi c1a c1b o c1c posso abilitare ulteriori interventi che non potrei realizzare da soli e in particolare si tratta di interventi definiti al comma 2 ecobonus quindi tutto ciò che è ecobonus stiamo parlando ad esempio di sostituzioni infizi schermature solari interventi di impianti di building automation inoltre è possibile è possibile abilitare l'installazione di impianto fotovoltaico con relativo sistema di accumulo inoltre è possibile installare le colonnine di ricarica quindi questi sono gli interventi secondari che sono comuni ai tre interventi energetici quindi c2 c5 c6 subordinato a c5 c8 lo vediamo chiaramente in questa infografica invece per quanto riguarda il sisma bonus quindi qualora effettui interventi soltanto relativi sisma bonus potrò accedere all'installazione agevolata per l'impianto fotovoltaico e l'eventuale relativo sistema di accumulo quindi questo è fondamentale per capire cosa posso fare direttamente quindi quali sono gli interventi cosiddetti trainanti e cosa posso fare solo se ho fatto gli interventi trainanti definendoli interventi trainati interventi secondari trainati benissimo detto questo andiamo un po' più veloce ricordiamo che gli interventi di tipo C1 quindi isolamento termico dell'involucro edilizio hanno diversi limiti di spesa e in particolare possono raggiungere importi fino a 50.000 euro nel caso di un'unica unità immobiliare 40.000 euro nel caso di mini condomini dove per mini condomini intendiamo lavori su parti comuni in condomini che abbiano anzi fino a 8 unità immobiliari quindi 40.000 euro per il numero di unità immobiliari 30.000 euro per condomini con oltre 8 unità immobiliari quindi tetto di spesa massimo 30.000 per numero di unità immobiliari nel caso di condomini con oltre 8 unità immobiliari chiarissimo per quanto riguarda invece il la sostituzione i lavori su parti comuni per la sostituzione di impianti esistenti con impianti centralizzati quindi stiamo parlando dell'intervento C1B ancora un intervento trainante abbiamo limiti di spesa pari a 20.000 euro nei mini condomini per il numero di unità abitative e 15.000 nei condomini con oltre 8 unità abitative infine abbiamo nel caso di intervento C1C quindi sostituzione generatore nell'unità immobiliare singola abbiamo un tetto di spesa fissato a 30.000 quindi abbiamo visto i tetti di spesa degli interventi principali per quanto riguarda poi gli interventi abilitati i tetti di spesa sono già definiti ma dopo vedremo anche l'intervento del decreto requisiti eco bonus del mese che definisce in maniera compiuta questi limiti di spesa abbiamo inoltre un tetto pari a 48.000 euro per impianti fotovoltaici 2400 euro per ogni kilowatt inoltre sempre incluso nei 48.000 totali è possibile destinare fino a 1000 euro per ogni kilowattore prodotto dall'impianto di accumulo detto questo per quanto riguarda invece gli interventi per le colonnine di ricarica abbiamo quindi interventi a C8 abbiamo un tetto di spesa fissato a 3000 euro per quanto riguarda invece il sisma bonus quindi la riduzione del rischio sismico interventi di riduzione del rischio sismico abbiamo un tetto di spesa pari a 96.000 euro benissimo parliamo subito di requisiti che devono soddisfare gli interventi per tutti gli interventi quindi per tutti quelli che sono gli interventi a carattere energetico è necessario soddisfare il comma 3 che prevede il miglioramento energetico di almeno due classi quindi di fatto bisognerà produrre un'ape ante operam e un'ape post operam quindi un'ape prima un'ape dopo che attestino il superamento di due classi energetiche è possibile il superamento di una sola classe energetica qualora siamo già in classe a3 quindi in quel caso il raggiungimento della classe massima a4 non consentirebbe il salto di due classi quindi solo nel caso in cui ci troviamo in a3 dobbiamo effettuare il salto di una classe raggiungendo la 4 altrimenti è sempre necessario il salto di due classi molto bene inoltre dobbiamo rispettare i requisiti minimi previsti dal decreto 63 in particolare il decreto requisiti minimi previsto dalla legge 90 che è il dm del 26 giugno del 2015 bene un'altra novità molto interessante visto quello che è il patrimonio edilizio italiano è un'agevolazione che è stata concessa in corso di conversione del decreto rilancio quindi è una novità introdotta dalla camera la possibilità di accedere direttamente agli interventi secondari per quegli edifici che sono soggetti a qualsiasi tipo di vincolo paesaggistico ambientale previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio quindi il decreto legislativo 42 del 2004 quindi tutti i mobili vincolati da qualsiasi vincolo paesaggistico ambientale di qualsiasi tipo oppure quegli immobili che sono comunque vincolati da regolamenti edilizi regolamenti urbanistici o regolamenti ambientali che non ne consentano la diretta applicazione degli interventi principali quindi questi edifici possono accedere direttamente agli interventi secondari quelli trainati sto parlando in particolare della sostituzione delle finestre quindi dell'eco bonus sostituzione delle finestre sostituzione dell'impianto del generatore di calore produzione acqua calda climatizzazione invernale estiva sto parlando dell'oscuramento building automation e così via quindi questa è una novità molto interessante altra novità sempre introdotta e qui vado un po' più velocemente sempre introdotta dalla legge 77 del 2020 è quella di poter accedere a interventi all'agevolazione dell'eco bonus quindi agevolazione per miglioramento energetico pardon non eco bonus quindi miglioramento energetico anche in caso di demolizione e ricostruzione cosa che non era espressamente prevista nella prima formulazione del decreto rilancio quindi prevista la possibilità di demolire e ricostruire usufruendo dell'agevolazione per riqualificazione energetica al 110% bene abbiamo parlato un po' degli interventi energetici parliamo rapidamente anche degli interventi strutturali che ci consentono di riqualificare sismicamente il patrimonio edilizio esistente in particolare stiamo parlando del sisma bonus sisma bonus al 110% che può essere applicato a tutti gli edifici italiani ricadenti nella classificazione prevista dall'OPCM 3274 del 2003 quindi zona 1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 quindi è fatta esclusione soltanto della zona 4 ma se guardate questa cartina questa mappa con le zone sismiche vediamo che la zona 4 è limitata veramente a pochissime zone probabilmente solo la Sardegna parte della Puglia e qualche zona dell'Italia settentrionale di fatto gran parte del territorio italiano ricade nelle tre zone nelle prime tre zone sismiche quindi è davvero un'opportunità eccezionale per riqualificare sismicamente le nostre abitazioni le nostre case detto questo anche nel caso di interventi antisismici e questo lo prevede espressamente anche il DM del MISE è necessario procedere a una riduzione di rischio sismico di classe di rischio sismico dell'edificio quindi in particolare si fa riferimento al DM 28 febbraio del 2007 si fa riferimento alle linee guida sul sisma bonus che definiscono i criteri con cui calcolare la classe di rischio sismico vi ricordo rapidamente che il nostro software edilus già effettua tutta una serie di calcoli producendo a seguito del calcolo quindi producendo la condizione la classificazione rischio sismica sia prima del rischio sismico sia prima dell'intervento che post intervento dopo casomai ne parleremo un pochino alla fine del webinar vedremo un attimino quali possono essere le applicazioni con i software H detto questo ne ho già parlato rapidamente non mi soffermo più di tanto sugli interventi secondari di tipo fotovoltaico ne abbiamo parlato prima 2400 euro a kilowatt vediamo rapidamente cosa significa usufruire del super bonus 110% lo anticipo ora poi eventualmente lo chiariremo dopo usufruire dell'agevolazione quindi del super bonus vuol dire scegliere tra tre condizioni in particolare ipotizziamo di realizzare interventi di riqualificazione energetica e o sismica sul nostro edificio sosteniamo una spesa do dei numeri in modo da chiarire la questione immaginiamo di spendere 100.000 euro per la riqualificazione energetica sismica della nostra abitazione e immaginiamo di rientrare tra i beneficiari dell'agevolazione e di soddisfare tutti i requisiti quindi se tutto è stato rispettato e il contribuente ha realmente diritto all'agevolazione fiscale il contribuente tizio ha un'agevolazione fiscale pari a 110.000 euro da usufruire in 5 rate costanti a partire dall'anno successivo del sostenimento della spesa per l'intervento edilizio effettuato quindi tizio ha la possibilità di scegliere tra tre opzioni la prima usufruire direttamente del credito IRPEF quindi di fatto deve fare i conti con la sua IRPEF quindi con la sua imposta sul reddito delle persone fisiche dovrà valutare se è in grado o meno di utilizzare il suo credito per scontare l'IRPEF dovuta allo stato quindi di fatto nel caso di 110.000 euro 22.000 euro saranno destinati a agevolazione IRPEF quindi in questo caso se tizio ha la possibilità di detrarre 22.000 euro in quell'anno partire dall'anno 1 quindi l'anno 0 il sostenimento della spesa dall'anno 1 fino all'anno 2 3 4 e 5 fino a quinto anno potrà usufruire di una detrazione fiscale di 22.000 euro raggiungendo alla fine del quinto anno una detrazione complessiva di 110.000 euro benissimo qualora tizio non voglia o non possa è chiaro che faccio una piccola premessa probabilmente questo è l'investimento più interessante qualora si sia in grado di usufruire direttamente direttamente della detrazione fiscale probabilmente rappresenta certamente non probabilmente certamente la detrazione più importante quindi l'investimento più importante perché perché tizio avrà sostenuto 100.000 euro di spese avrà riqualificato la sua casa alla fine dei 5 anni avrà ottenuto un beneficio di 110.000 euro quindi si troverà la casa riqualificata e si troverà un interesse dopo ragioneremo anche un po' con la matematica finanziaria si troverà anche un si ritroverà anche ad aver recuperato la spesa e anzi troverà un vantaggio di 2.000 euro all'anno non voglio dire 10.000 2.000 euro per i successivi 5 anni per ogni anno seconda opzione tizio non può non può cedere non può usufruire direttamente del del credito e si accorda con l'impresa raggiunge un accordo con l'impresa in modo tale da cedere all'impresa il suo credito sotto forma di contributo che coincide con uno sconto in fattura fino al 100% dell'importo dei lavori l'abbiamo detto prima quindi in tal caso tizio potrà effettuare i lavori di 100.000 euro pagando da zero fino al valore cui si accorderà con l'impresa cedendo questo beneficio di 110.000 euro in 5 anni all'impresa l'impresa dal canto suo convertirà questo credito di tizio in un credito di imposta che maturerà negli stessi tempi previsti dalla prima agevolazione fiscale di tizio quindi vuol dire dall'anno 1 dall'anno successivo quindi dal gennaio dell'anno successivo l'impresa potrà usufruire di questo credito di imposta in particolare 22.000 euro nell'anno 1 22.000 euro nell'anno 2 e così via ma l'impresa potrà anche pensare di cedere ulteriormente quindi a terzi senza specificare quale senza senza alcuna distinzione potrebbero essere banche o altre imprese potrà cedere questo credito di imposta accordandosi diversamente quindi questo è il secondo meccanismo cessione del credito equivalente a sconto in fattura terzo meccanismo il contribuente tizio potrà pensare di cedere al banche a istituti di credito a poste oppure a assicurazioni vorrà pensare di cedere il credito e di ottenere uno sconto immediato attenzione dedico giusto un minuto a questa questione è evidente che per la matematica finanziaria avere un credito di 110.000 in 5 anni non vuol dire averli a tempo t uguale 0 questo vuol dire necessariamente applicare uno sconto legato proprio al tasso di interesse legato tutta una serie di questioni perché noi sappiamo bene dalla matematica finanziaria che un capitale attuale quindi un capitale attuale un montante quindi un montante qualcosa che si verificeranno il futuro è diverso dal capitale attuale proprio perché c'è di mezzo l'interesse quindi di fatto io cederò alla banca non un capitale attuale di 110.000 euro ma cederò un credito che maturerà in 5 anni al quinto anno il montante sarà pari a 110.000 euro occorrerà capire quale sarà lo sconto effettuato al tempo t uguale 0 su questo montante di 110 che la banca concederà direttamente a Tizio detto questo dovrebbe essere chiaro perché qualcuno ci chiedeva nelle diverse FAQ che non aveva capito bene qual era proprio il meccanismo alla base della cessione del credito ed è proprio questo quindi io cedo alla banca un beneficio la banca me lo sconta anticipandomi le somme per eseguire i lavori quindi di fatto quando sceglierò il meccanismo 3 l'impresa la pagherò direttamente con i fondi della banca ok c'era qualche dubbio su questa cosa ci sono arrivate tante domande su questa questione quindi credo che le abbiamo più o meno chiarite detto questo vi dico rapidamente che le banche si stanno muovendo l'abbiamo detto anche in passato Unicredit San Paolo e Poste hanno già formulato le loro proposte tuttavia non rendono ancora disponibili quindi non si sa ancora quale sarà lo sconto applicato dovete ancora attendere perché questa è un'altra domanda che ci veniva fatta molto frequentemente importantissimo visto di conformità visto di conformità trattandosi di un trattandosi di di un'agevolazione particolare che viene concessa al contribuente c'è la necessità di avere delle garanzie da parte dello Stato in particolare la disciplina del super bonus prevede oltre all'assegurazione di cui parleremo tra poco prevede la necessità della posizione di uno specifico visto di conformità che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta quindi è fondamentale a valle di tutta la procedura ottenere un visto di conformità che attesterà i requisiti che attesterà la sussistenza del credito questo visto di conformità sarà rilasciato dai commercialisti dai CAF dai periti commerciali dei consulenti del lavoro oppure da esperti contabili o i CAF responsabili dell'assistenza fiscale ora abbiamo visto quali sono gli aspetti generali del super bonus parliamo rapidamente di quelle che sono tutti gli adempimenti legati agli interventi quindi tutti gli adempimenti tecnici il tecnico il progettista gioca un ruolo fondamentale nell'intera questione super bonus perché perché il tecnico dovrà sicuramente asseverare che cosa asseverare il rispetto di tutti i requisiti tecnici previsti dalle diverse norme se ricordate all'inizio ne abbiamo parlato andiamoci a rivedere quelle norme dovremo rispettare il requisito di tutte quelle norme dovremo definire quindi dovremo asseverare oltre il rispetto dei requisiti dovremo asseverare la congruità dei prezzi quindi il tecnico avrà la responsabilità di definire quindi di calcolare i prezzi dopo vedremo come e definire la congruità asseverandola quindi una responsabilità in capo al tecnico dovrà dovrà quindi attestare la riduzione del rischio sismico nel caso di interventi antisismici e avrà tutta una serie di adempimenti da soddisfare relativi relativi alla trasmissione della pratica all'Enea detto questo ricordiamoci anche che è necessario prestare molta attenzione perché in caso di inadempimenti oppure di asseverazioni infedeli si applicano oltre alle sanzioni penali anche sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa al riguardo e questa è una cosa molto importante ne parleremo dopo quando vedremo la questione quando parleremo del provvedimento delle entrate è fondamentale per il tecnico stipulare un'apposita un'apposita assicurazione quindi un apposito contratto assicurativo che lo tuteli sulla responsabilità civile con un massimale adeguato alle attestazioni ma anche all'importo dei lavori per ciascuna asseverazione che va a rilasciare e comunque il massimale non deve essere inferiore a 500.000 euro questa è una domanda che ci ponete in tanti è necessario sì è necessario dotarsi di una copertura assicurativa quindi occorrerà vedere se le assicurazioni avranno rilasciato dei pacchetti specifici per il super bonus perché la copertura dovrà essere dovrà essere dovrà essere correlata all'entità dei lavori oltre che al numero di attestazioni effettuate questo lo specifica le entrate nel provvedimento dopo ne parleremo attentamente quindi l'assicurazione professionale già in possesso dei professionisti potrebbe non essere sufficiente potrebbe non essere valida anche perché occorre che le prestazioni assicurate quindi le prestazioni specificate all'interno del contratto prevedano espressamente gli interventi che vanno realizzati quindi attenzione alla questione dell'assicurazione professionale ecco abbiamo fatto una piccola panoramica introduttiva vediamo un attimino ciò che accade ciò che accade da sulla chat do uno sguardo stesso io ecco vediamo se ci sono stavo sostenendo il recupero fiscale posso cedere il credito allora vediamo un attimino se ci sono domande poi casomai alla fine le rileggeremo insieme per ora vediamo buongiorno appartamento ok chi conviene sì per la cessione del credito esatto demolizione di costruzione rientra nel sisma bonus sì rientra l'eventuale ampliamento no no attenzione bisogna innanzitutto come dicevo do qualche risposta in questo caso do la risposta a Gianluca Pace che è il primo che sto leggendo qui dunque ci chiede Gianluca demolizione ricostruzione rientra nel super bonus sisma bonus quindi ci chiede se in caso di demolizione e ricostruzione posso soffrire del sisma bonus agevolato al 110% la risposta è certamente sì inoltre l'intervento di demolizione e ricostruzione è espressamente previsto anche per gli interventi di efficientamento energetico quindi su questo non ci sono problemi sia sui interventi antisismici quindi stiamo parlando di rinforzo della struttura qui pardon nel caso di demolizione e ricostruzione stiamo parlando di tutta la struttura sia di tutta la parte energetica quindi temporamento è chiaro che occorre tenere contabilità separate per quanto riguarda l'eventuale ampliamento dobbiamo capire una cosa la demo ricostruzione quindi demolizione e ricostruzione è assimilabile alla ristrutturazione in alcuni casi in particolare secondo la normativa la nuova normativa il decreto semplificazioni che è stato appena da qualche da qualche settimana è stato pubblicato da qualche settimana siamo quindi in attesa della legge di conversione quindi attendiamo la legge di conversione il decreto semplificazioni prevede la possibilità espressa di poter demolire ricostruire con incremento di volume in quel caso direi di sì ma attenzione se non ricordo male non bisogna ricadere in zona vincolata non bisogna ricadere in centro storico ed è necessario che ci siano dei piani dei piani di rigenerazione urbana ad esempio mi viene in mente il piano casa potrebbe essere un piano di rigenerazione e in alcuni casi quindi si potrebbe valutare però ribadisco atteniamo la conversione in legge del decreto semplificazioni che ha introdotto questa semplificazione dopodiché potremo ragionare sulla questione relativa all'ampliamento per ora direi di no a meno che l'ampliamento può essere giustificato da questioni tecniche ad esempio vado a realizzare il cappotto in quel caso c'ho un incremento di volume entro certi limiti sì atteniamo la conversione in legge del decreto semplificazioni detto questo vedo siete tantissimi siete in oltre 4800 persone quindi è difficilissimo anche dare una risposta a tutti mi dispiace per questo vabbè andiamo avanti poi casomai alla fine cerchiamo di concentrarci eventualmente vedremo poi di raccogliere le domande più interessanti e di pubblicarle sull'apposito servizio di fac chiederei la regia se può inserirci il link per le fac altrimenti dovrebbe essere vado a memoria bim.h.it slash fac trattino super bonus quindi senza il www dovete scrivere bim.h.it slash fac trattino alto quindi il meno super bonus ok nel frattempo vediamo se la regia lo mette in sovraimpressione comunque questo è l'indirizzo ma direttamente accedendo al blog bim.h.it quindi bim.h.it in alto c'è un bottone che nella barra grigia che consente di accedere a una specifica pagina di FAQ dove è possibile dove è possibile leggere la risposta alle domande più frequenti quindi cercheremo di rispondere in questo in questo modo ok ok vi dico velocemente leggo qualcosa relativa a Termus ne parleremo alla fine sì il software Termus sarà presto aggiornato a tutti gli adempimenti quindi sarà aggiornato con le nuove regole ma già di fatto ora in questo momento potete già lavorare con il software Termus per procedere agli interventi quindi alla relazione ex legge 10 quindi sulla relazione tecnica potete già fare il calcolo dell'Ape l'Ape Ant e l'Ape Post di fatto a breve sarà rilasciata anche la nuova versione aggiornata ai nuovi decreti c'è da attendere un pochino ok detto questo con Edilus vi ricordo che il nostro software per il calcolo strutturale già siete a posto quindi i possessori di Edilus possono già operare tranquillamente effettuando il calcolo della classe di rischio sismico pre e post intervento direttamente ecco vedo in sovrimpressione bim.h.it slash fac trattino super bonus non l'avevo visto ecco questo è il link per accedere alla per accedere alla fac detto questo continuerei continuerei con la presentazione parlando dei decreti quindi chiederei la regia ecco di visualizzare il mio schermo benissimo procederei con l'analisi dei decreti attuativi del mese i decreti attuativi di agosto facciamo una piccola premessa se ricordate in apertura abbiamo parlato del dl63 2013 fondamentale per quanto riguarda l'eco bonus anche sisma bonus dl63 prevedeva all'articolo 3 ter attenzione che con uno o più decreti del ministro dello sviluppo economico attenzione da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore di quella disposizione fossero definiti i requisiti tecnici che dovevano soddisfare gli interventi che beneficiavano delle agevolazioni i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione da parte dell'enea quindi sia documentali che in situ ad oggi quindi fino al mese scorso quindi fino a luglio questo decreto non era ancora uscito il DL 34 del 2020 prevede all'articolo 119 comma 13 lettera A che per gli interventi agevolati dal super bonus i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti da quel famoso decreto che doveva essere adottato ben sette anni fa e in particolare la congruità dei prezzi quindi di fatto il DL 63 prevedeva l'emanazione di un apposito decreto dopo sette anni il ministero dello sviluppo economico ha pubblicato emanato in questo momento è pubblicato sul sito del ministero ancora non è in gazzetta ma è sul sito del ministero sul sito del MISE il decreto requisiti eco bonus è stato definito in questo modo dallo stesso ministro e il decreto asseverazioni andiamo a parlare rapidamente del decreto requisiti eco bonus vi ricordo una cosa importante se non l'avete ancora fatto scaricate le slide all'indirizzo chiederei la regia di inserire l'indirizzo per il download delle slide che è www.h.it slash slides trattino super bonus trattino 110 in questa pagina oltre alle slide troverete anche una cartella quindi un un file zip compresso che contiene tutta la documentazione di riferimento cioè in particolare ci sono se non ricordo male una cartella denominata norme quindi c'è il decreto legge con la legge di conversione poi c'è un'altra cartella AE agenzia delle entrate dove ci sono i provvedimenti il provvedimento delle entrate la circolare 24E delle entrate e i modelli poi c'è un'altra cartella mise nella cartella mise troverete i due decreti quindi decreto requisiti eco bonus e troverete anche quindi decreto requisiti eco bonus troverete anche il decreto asseverazioni con i relativi modelli in formato word i modelli per l'asseverazione in formato word ok detto questo possiamo entrare nel vivo del decreto requisiti minimi e vedere un attimino le particolarità di questo decreto vi ricordo rapidamente che nei giorni scorsi quindi negli ultimi giorni di luglio avevamo già parlato di una bozza che circolava in rete in realtà vi devo dire non mi sono sorpreso perché di fatto questa nuova questa nuova la versione definitiva del decreto del mise più o meno ricalca quella che era la bozza non ci sono particolarità di rilievo se non sono state corrette una serie di cose una serie di imprecisioni ma di fatto non ci sono grandi sorprese sul decreto requisito requisiti ecobonus questo è il nome ufficiale decreti requisiti ecobonus non ci sono grandi sorprese quindi non ci dovrebbero essere grandi problemi rispetto a quello che abbiamo già anticipato nei giorni scorsi quindi il 31 di luglio ecco importante partiamo un attimino dalle definizioni del decreto requisiti c'è subito una novità il decreto legislativo 48 2020 entrato in vigore un mesetto qualche forse circa un mesetto fa prevede una definizione una modifica a quella che è la definizione di impianto termico e in particolare l'impianto termico è un impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva con o senza produzione di acqua calda sanitaria o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziali ed assimilate notate subito la modifica scompare il limite di potenza di 5 kW quindi di fatto perché faccio questa precisazione per usufruire del super bonus per impianti di tipo a carattere per interventi a carattere energetico è necessaria la presenza di un impianto termico è scomparso il limite dei 5 kW quindi di fatto qualsiasi impianto tecnologico fisso che produca calore potrà essere considerato impianto termico esistente quindi l'importante è che sia fisso chiara questa cosa prima vigeva il limite dei 5 kW prima ancora era 15 quando la somma dei diversi focolari dove la somma dei vari focolari presenti doveva essere almeno 5 kW in questo momento è scomparsa la potenza quindi di fatto se abbiamo un generatore di calore fisso possiamo considerarlo impianto termico questo vuol dire che abbiamo la possibilità di intervenire a livello energetico altra domanda fondamentale ho un rudere senza generatore di calore oppure ho un'abitazione senza generatore di calore posso accedere al super bonus la risposta è no occorre avere l'impianto termico l'impianto termico è fondamentale qui c'è la definizione la trovate nelle slide quindi verificate che il vostro che il vostro edificio oggetto di intervento sia dotato di generatore di calore di impianto termico poi un'altra specifica questa è molto interessante perché qui andiamo a rispondere a una delle domande più frequenti leggiamola insieme cosa si intende per edificio unifamiliare per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad unica un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva funzionalmente indipendente che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno è destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare questa è la definizione di edificio unifamiliare perché abbiamo visto prima che sugli edifici unifamiliari i limiti di spesa sono diversi dagli edifici in condominio abbiamo visto che gli edifici unifamiliari si può intervenire sugli edifici familiari per un numero massimo di due edifici dopo vedremo anche le precisazioni delle entrate ora molti di noi avevano dubbi sulla questione uno o più accessi autonomi dall'esterno cosa volesse dire quest'uno o più accessi autonomi dall'esterno allora un'unità immobiliare può ritenersi anche sulla questione del funzionalmente indipendente ci si è chiesti più volte cosa significhi noi abbiamo dato una risposta e fortunatamente era quella giusta un'unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere quali impianti per acqua gas energia elettrica riscaldamento di proprietà esclusiva ad uso autonomo esclusivo e la presenza di questo è importante la presenza di un accesso autonomo dall'esterno presuppone che l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari quindi quando accedo in quella unità non devo passare attraverso parti comuni per l'accesso chiuso da cancello oppure portone d'ingresso che consenta l'accesso questa è una cosa che ci chiedevate in tanti l'accesso deve essere per forza dalla strada no l'accesso può essere da strada da cortile o da giardino di proprietà esclusiva quindi immaginiamo al caso delle billette a schiera in quel caso ci troviamo in un condominio tuttavia visto che l'edificio può considerarsi autonomo funzionalmente autonomo quindi impianti autonomi certamente inoltre questa billetta a schiera ciascun edificio ha un accesso diretto autonomo nel caso di billetta a schiera potrebbe essere o direttamente dalla strada oppure da un giardino di proprietà esclusiva in questo caso il vantaggio è che è possibile operare direttamente sull'unità senza sottostare a quella che è la decisione del condominio quindi l'assemblea condominiale questa è una una cosa molto importante che di fatto è stata inserita dalla legge di conversione del decreto 34 quindi credo che su questo non ci dovrebbero essere più dubbi qui c'è scritta la definizione univoca di edificio unifamiliare abbiamo fugato ogni dubbio dall'edificio dell'edificio unifamiliare ricordiamoci che l'accesso può avvenire anche attraverso cortili quindi cortili magari anche da parti comuni l'importante è che ci sia un portone d'ingresso o un cancello e l'ingresso avvenga in maniera in maniera avvenga in maniera esclusiva quindi senza non si entri in androne ok poi parti comuni degli edifici parti comuni degli edifici chiedo scusa un attimo ok benissimo per quanto riguarda le parti comuni degli edifici l'articolo si fa riferimento espressamente all'articolo 1117 del codice civile e quindi di fatto quello stesso articolo prevede che questo è importante le parti comuni perché gli interventi vanno effettuati su parti comuni quindi il suolo su cui sorge l'edificio le fondazioni i muri l'intera struttura quindi travi i pilastri sono tutte parti comuni di edifici plurifamiliari quindi abbiamo detto la struttura i tetti e i lastrici solari le scale i portoni i portici i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune come ad esempio ascensori pozzi impianti tecnologici eccetera quindi tutte queste parti comuni sono espressamente definite dell'articolo 1117 qui ho fatto un estratto ho fatto una sintesi dell'articolo 1117 potete scaricarlo e avere un elenco ben definito di quelle che possono considerarsi parti comuni perché anche questa è una domanda che ci avete fatto in tanti e abbiamo il riferimento preciso che è il 1117 benissimo qual è la particolarità del decreto requisiti ecobonus io ritengo che sia un decreto fatto questa è una mia interpretazione soggettiva fatto veramente bene perché per la prima volta ci ritroviamo ve la faccio vedere un attimino la tabella ci troviamo di fronte a una tabella sintetica che riporta tutti gli interventi previsti dalle varie normative fiscali se ricordate questo decreto è stato emanato in risposta non solo al DL 34 ma è stato emanato in risposta al DL 63 del 2013 quindi ben sette anni fa e questo decreto seppur si sia fatto attendere tanto credo che sia veramente un'illuminazione perché è possibile individuare in maniera compiuta quindi compiutamente tutti i diversi interventi per ciascuno intervento abbiamo in maniera specifica il riferimento normativo quindi immaginiamo questa tabella effettua una suddivisione globale quindi una suddivisione sul tipo di intervento che può essere immaginiamo riqualificazione globale oppure interventi su involucro edilizio oppure collettori solari e così via poi per ciascun per ciascuna tipologia di intervento viene suddiviso in una in un sotto intervento quindi definizione dell'intervento con lo specifico riferimento normativo che può essere ad esempio il comma 345 piuttosto che il DL 63 articolo 14 comma 2 piuttosto che l'articolo 346 della legge 296 e così via quindi questa tabella la ritrovate all'interno quella completa la ritrovate all'interno del decreto asseverazioni quindi pardon pardon decreto requisiti quindi veramente molto interessante perché individua compiutamente gli interventi ma non solo per ciascun intervento individua anche la detrazione massima ammissibile poi individua la spesa massima ammissibile in questi casi in realtà il decreto o individua la detrazione massima o la spesa massima non è un grosso problema perché basta moltiplicare la spesa per la liquota di detrazione che è definita dal decreto stesso e ottenere la detrazione stessa quindi non sarebbe un problema risalire all'una conoscendo l'altra inoltre definisce anche il numero di anni su cui ripartire le detrazioni quindi ritengo che sia una cosa veramente fatta bene che crea ordine in quello che poteva sembrare un po' caotico nel quadro degli interventi che realmente era un po' caotico di fatto viene creata una tabella chiamiamola sinottica che comprende tutte le tipologie di intervento i tetti di spesa e i riferimenti normativi bene all'articolo 2 vengono definite le tipologie di intervento fornendo una nomenclatura specifica quindi il decreto inserisce una nuova nomenclatura quindi articolo 2 lettera A interventi di qualificazione energetica quelli che abbiamo visto nella prima riga di quella tabella ne dà il riferimento normativo che è questo comma 344 della legge 296 vi ricordate all'inizio abbiamo parlato di quelle leggi fondamentali se avete ancora dubbi su cosa sia la 296 è la finanziaria del 2007 non possiamo avere dubbi dobbiamo ritornare lì e leggerci il comma 344 interventi di riqualificazione energetica globale eseguiti su edifici quindi di fatto l'articolo 2 mi va a disciplinare tutti gli interventi da effettuare sul mio edificio benissimo qui in verde ho riportato per ciascun intervento quello che è il requisito che ogni intervento deve soddisfare e questo è previsto all'interno dell'allegato A quindi alla fine del decreto ci sono una serie di allegati allegato A questo allegato contiene tutti i requisiti che ogni intervento deve soddisfare benissimo io li ho inseriti qui in verde quindi alla lettera B quindi articolo 2 lettera B interventi sull'involucro edilizio comma 345 questo in grigio è il riferimento normativo quello in blu è l'intervento sintetico quello in verde sono i requisiti che deve soddisfare quindi involucro edilizio strutture opache sostituzione finestre schermature solari e così via ora non ve li leggerò tutti altrimenti perderemo un po' di tempo qui c'è anche ho indicato anche dove non sono previsti i massimali di spesa qui ci sono i vari requisiti tanto le slide potrete scaricarle non c'è nessun problema andiamo avanti interventi di installazione collettori solari ok detto questo ribadiamo che il decreto requisiti minimi requisiti ecobonus in primis definisce tutti gli interventi possibili non solo quelli sul 110% quindi quelli non solo interventi relativi al super bonus ma tutti gli interventi di riqualificazione energetica ok abbiamo visto la tabella sinottica abbiamo capito che questa riporta anche i massimali e le detrazioni e il numero di anni in cui suddivisere la spesa andiamo a vedere adesso questo è importantissimo l'ho sottolineato perché la maggior parte delle vostre domande immagino che ce ne sia ancora qualcuna è relativa alle spese agevolate e in particolare anche alle spese tecniche ora daremo una risposta è molto importante quanto riportato nell'articolo 5 che ripeto non parla solo del 110% ma anche del 65% o del 50% quindi dell'eco bonus o del bonus ristrutturazioni bonus edilizia chiamiamolo come vogliamo quello del 50% la detrazione per la realizzazione degli interventi di cui l'articolo 2 sono quegli interventi che abbiamo visto poc'anzi spetta per le spese relative a e qui vengono disciplinate puntualmente guardate interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro questo che ho sottolineato in rosso è importante perché è sfuggito a molti purché detta trasmittanza non sia inferiore ai pertinenti valori di cui all'allegato è ora vediamo cosa significa comprensivi delle opere provvisionali e accessorie attraverso fornitura e messa in opera di materiale coibente fornitura e messa in opera di materiali ordinari anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti quindi attenzione è agevolata anche la spesa per la realizzazione di ulteriori strutture murarie qui stiamo parlando del 65% ma è chiaro che poi andrete a leggere nello specifico quest'intervento qui l'articolo 2 lettera era 65 poi dopo ci saranno anche le specifiche per gli altri poi demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo demolizione ricostruzione o spostamento anche sotto traccia degli impianti tecnici insistenti sulle superfici oggetto degli interventi di cui alla presente lettera quindi di fatto questo per farvi capire ho messo solo questo estratto vengono riportate all'articolo 5 quindi scaricatevi il decreto contenuto in quella cartella zip andrete a leggere tutte le spese agevolati e credetemi risponderemo almeno leggendo questo articolo almeno al 50% delle domande sulle quali avevamo qualche dubbio una cosa importante vi ho detto prima che è sottolineato in rosso quest'articolo prevede che gli interventi che comportano una riduzione cioè gli interventi sono agevolabili se la trasmittanza degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio non sia inferiore a questi valori cioè vuol dire che le strutture opache esistenti orizzontali quindi l'isolamento e le coperture in funzione della zona climatica devono avere una trasmittanza attuale maggiore di questo valore le strutture opache verticali quindi isolamento delle pareti le pareti devono avere una trasmittanza maggiore di questo valore in questa zona quindi quelle esistenti stiamo facendo riferimento a quelle esistenti altrimenti non si capirebbe il perché il decreto dica non inferiore quindi vuol dire che questo è il limite la soglia quindi devo stare al di sopra di questi valori e intervenire per riqualificare energeticamente quindi per migliorare la trasmittanza anche nel caso degli infissi l'infisso esistente deve avere una trasmittanza in zona maggiore di 2,60 ok questo dovrebbe essere chiaro benissimo detto questo andiamo avanti con l'analisi del del decreto requisiti interventi di riduzione del rischio sismico qui l'ho detto prima si fa riferimento espressamente al decreto del febbraio numero 58 del febbraio 2017 quindi stiamo parlando delle linee guida per il sisma bonus e vi ho già detto che chi ha ed ilus può già procedere tranquillamente che è già aggiornato secondo i dettami delle linee guida sul sisma bonus nessun problema un'altra domanda fondamentale è questa un'altra domanda che ci avete fatto in tantissimi e fortunatamente avevamo avevamo tra virgolette azzeccato la risposta prestazioni professionali sono incentivate le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui a tutte le superiore quindi tutti gli interventi comprensivi e questo lo specificava già il DL34 comprensivi della redazione delle asseverazioni dell'attestato di prestazione energetica e tutto il resto questo era già previsto non c'era nessun problema ma tutto il resto quindi direzione lavori collaudo tutte le spese tecniche necessarie c'erano dei dubbi se fossero incentivate o meno e qui finalmente il MISE ci dice chiaramente che le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi quindi direzione lavori progettazione progettazione preliminare definitiva esecutiva dopo vedremo perché vi parlo di questi tre livelli di progettazione lo vedremo tra poco sono espressamente agevolate dal decreto requisiti ecobon cioè l'agevolazione espressamente prevista molto bene articolo 6 8 adempimenti per il committente questo l'abbiamo già visto in passato e di fatto non cambia nulla il committente ha 8 adempimenti per usufruire del super bonus in particolare deve depositare in comune una duplice copia della relazione tecnica relazione ex legge 10 quindi stiamo parlando della relazione sul contenimento delle dispersioni del contenimento delle dispersioni termiche quindi relazione tecnica deve acquisire l'assegurazione del tecnico abilitato ne abbiamo parlato prima dopo vedremo anche come si fa l'assegurazione deve acquisire l'ape ante e post eventualmente deve acquisire la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche ove previsto quelle a bassa inerzia termica deve effettuare il pagamento delle spese con bonifico parlante qualcuno ci domandava non ci dovrebbero più essere problemi sul bonifico parlante l'ho detto già più volte basta specificare i riferimenti normativi riferimenti normativi quindi che danno diritto alla detrazione nella causale bisogna utilizzare l'apposito modello previsto dalle banche o dalla posta per le detrazioni fiscali quindi quelli che prevedono la ritenuta sul bonifico effettuato la ritenuta da conto dell'8% poi occorre compilare occorre inserire il codice fiscale del beneficiario della detrazione la partita IVA del beneficiario del pagamento e eventualmente il numero di riferimento della fattura a cui si riferisce il bonifico quindi non dovrebbe essere più oramai un problema il bonifico parlante è molto importante trasmettere all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori i dati contenuti nella scheda descrittiva che adesso andremo a vedere ottenendo la relativa ricevuta informatica in particolare l'allegato C esclusivamente per alcuni interventi che contiene alcuni dati estratti dall'APE inoltre occorre inviare la scheda informativa contenuta nell'allegato I ma questi saranno compilate direttamente online poi vedremo vedremo anche il modello occorrerà trasmettere all'Enea l'asseverazione del rispetto dei requisiti e la dichiarazione di congruità sulle spese sostenute infine il committente dovrà conservare ed esibire su richiesta dell'amministrazione finanziaria oppure dell'Enea tutta la documentazione attestante gli adempimenti effettuati allegato A allegato A ne abbiamo parlato prima l'allegato io l'ho inserito in verde in quella slide iniziale prevede tutti i requisiti che devono soddisfare i vari interventi e in particolare gli interventi previsti sono 11 riqualificazione energetica globale involucro interventi su involucro installazioni di paralleli solari caldaie a condensazione pompe di calore sistemi ibridi micro generatori sostituzioni di scaldacqua tradizionali installazione di generatori di calore alimentati da biomassa combustibili il punto 10 fornisce delle indicazioni generali per gli interventi sugli impianti di climatizzazione invernale il punto 11 fornisce la definizione degli interventi di installazione dei sistemi di building automation questa è un'altra cosa molto interessante attenzione al punto 10 dove vengono fornite le indicazioni generali si precisa al punto 10 punto 2 che nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 2 è ammissibile la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione centralizzati con contabilizzazione del calore quindi questa è una domanda che ci hanno fatto perciò l'ho inserita è una domanda frequente quindi è possibile trasformare gli impianti individuali in impianti centralizzati con contabilizzazione del calore invece esclusa la trasformazione opposta ossia la trasformazione e il passaggio da impianti centralizzati a impianti individuali questo è importante ho inserito qui è saltata una linea di fatto è specificato cosa si può cosa è agevolabile e cosa no 10.2 ecco parliamo rapidamente di ape convenzionale questa è un'altra domanda che ci fate in tanti e vediamo cosa significa abbiamo detto che per gli interventi energetici occorre asseverare il passaggio di due classi quindi il miglioramento di due classi energetiche nella condizione relativa allo stato di fatto la relazione bisogna la situazione post intervento deve deve essere deve prevedere un miglioramento di due classi rispetto alla situazione di fatto benissimo la prima novità quindi in tema di ape è che l'ape ante e l'ape post in caso di questi interventi quindi interventi agevolati al 110% è rilasciata non esclusivamente dal tecnico abilitato noi sappiamo che per definizione quando facciamo una certificazione energetica il certificazione energetico deve essere estraneo alla progettazione dei lavori deve essere estraneo a tutto il processo che ha portato alla realizzazione dell'intervento quindi c'è una dichiarazione di indipendenza in quel caso in questo caso la vera novità è che l'ape può essere rilasciata dal tecnico abilitato ma anche dal progettista o dal direttore dei lavori stesso che dovrà rilasciarla sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio quindi è fondamentale questa è una vera novità quindi di fatto già si intuisce che l'ape per questi scopi questo sarà un'ape legato a questo scopo quindi non è l'ape che noi dovremo andare a legare al contratto di compravendito al contratto di affitto e così via quindi anche tutta quella questione ci fate tante domande sulla questione delle normative regionali ape quando stiamo parlando in questo caso di ape quindi la classificazione anche da fino alla A4 quindi la classe G alla classe A4 stiamo parlando dell'ape nazionale il salto di due classi dovrò farlo su quella scala ok sulla scala nazionale chiarito questo andiamo ad inserire andiamo ad introdurre una novità fondamentale che è l'ape convenzionale che cos'è l'ape convenzionale innanzitutto come abbiamo già detto è un'ape che fa riferimento all'intero edificio quindi è tutto l'edificio e nel caso di più unità immobiliari quindi dobbiamo essere in un condominio come definito poi dall'entrata condominio più unità immobiliari avrò un unico ape per l'intero edificio perché è convenzionale? perché è calcolato in modo convenzionale e è relativo è finalizzato soltanto all'asseverazione del salto di due classi e non va utilizzato per la compravendita o per per altre questioni quindi ape convenzionale come si calcola l'ape convenzionale? occorre considerare soltanto i servizi energetici presenti nella situazione anti intervento ad esempio climatizzazione invernale climatizzazione estiva ACS produzione di ACS acqua calda sanitaria tutti gli indici di prestazione energetica saranno in particolare quello che utilizzeremo poi per il calcolo della classe energetica che è l'epi globale non rinnovabile su edificio di riferimento relativo all'anno 2019-21 EPGL NRN RIF standard sarà calcolato in questo modo dunque per ciascun unità immobiliare vado a calcolare l'epi l'epi convenzionale sarà pari alla media pesata sulla superficie utile di ciascuna unità immobiliare pertanto l'epi convenzionale da cui poi otterrò la classe energetica convenzionale dell'intero edificio è pari alla sommatoria di EP con I dove I è l'iesimo unità immobiliare quindi per I che va da 1 a n dove n è il numero delle unità immobiliari che costituisce l'intero edificio quindi sommatoria di EP per S con U con I quindi EP con I per S con U con I quindi moltiplico l'epi per la superficie di ciascun unità immobiliare e le sommo e divido per la superficie totale di fatto sto facendo una media otterrò un valore medio pesato sulla superficie dell'epi quest'epi lo classificherò con la con la scala energetica e andrò a calcolare la classe EP convenzionale dell'intero edificio attenzione una cosa molto importante non si possono utilizzare metodi semplificati quindi non si può utilizzare docet fate molto attenzione a questa questione perché ricordiamoci che il decreto linee guida questo è espressamente previsto dal decreto requisiti che con bonus quindi c'è scritto non si può utilizzare il metodo semplificato ma se vi ricordate al punto 4 punto 4 22 del decreto linee guida ve l'ho nominato in apertura è un decreto fondamentale linee guida APE al punto 4 punto 22 vengono specificati metodi per il calcolo della prestazione energetica e si fa riferimento al metodo semplificato che è valido per edifici fino a 200 metri quadri ma che non comportino una ristrutturazione importante attenzione a questa cosa se parliamo di super bonus necessariamente stiamo parlando di ristrutturazione importante di primo o di secondo livello cosa vuol dire primo o secondo livello chiariamola questa questione qualcuno ce l'ha chiesta allora ristrutturazione importante di primo livello è quella che interessa l'involucro quindi interventi sull'involucro edilizio con una percentuale maggiore del 50% della superficie disperdente complessiva quindi se sto superando del 50% la superficie disperdente complessiva dell'edificio mi trovo nel caso di una ristrutturazione importante del primo livello ristrutturazione importante di secondo livello è quella ristrutturazione che prevede l'intervento su almeno il 25% della superficie totale di sulla superficie disperdente complessiva totale quindi di fatto se ci ricordiamo qual è l'intervento abilitante per definizione è l'intervento sull'involucro che costituisca almeno il 25% della superficie disperdente di fatto è ovvio che un intervento agevolabile al 110% deve comportare una ristrutturazione importante e nel caso di ristrutturazioni importanti non sono consentiti i metodi semplificati quindi non si può utilizzare il docet dovrete utilizzare per forza termus per il calcolo dell'ape convenzionale vi ricordo come ho detto prima che termus sarà ben presto aggiornato e avrà prevederà tutte le specifiche definite dal decreto requisiti e decreto asseverazioni un'altra nota molto molto importante e mi fa piacere che sia stato confermato il criterio come si calcolano le spese tecniche abbiamo detto che le spese tecniche sono tutte agevolabili al 110% come si calcolano le spese tecniche anche su questo ci sono arrivate una serie di domande sia sulla possibilità di agevolazione l'abbiamo chiarita definitivamente sia su come si calcolano si calcolano facendo riferimento al famoso decreto parametri bis quello del 2013 che poi a seguito dell'emanazione del codice appalti è stato ripubblicato dal ministero di giustizia il 17 giugno del 2016 quindi decreto parametri bis che vuol dire questo vuol dire che le prestazioni professionali agevolabili saranno pari al massimo risultato dell'applicazione di questo decreto parametri bis che fondamentalmente quindi di fatto è pari saranno pari agli importi questo decreto di fatto definisce per le opere pubbliche gli importi a base di gara quelli che si mettono a base di gara nei servizi di ingegneria di architettura quindi nelle prestazioni professionali di fatto potremo calcolare le spese tecniche con questo decreto come si calcolano queste spese tecniche ci sono delle tabelle di riferimento tabelle di riferimento che prevedono tutta una serie di categorie di intervento quindi ad esempio edilizia una destinazione funzionale poi ci sono delle opere con degli identificativi e poi c'è proprio l'identificazione univoca dell'intervento a ciascun intervento è definito un grado di complessità quindi di fatto la faccio breve altrimenti perderemo troppo tempo il compenso professionale è calcolato come la sommatoria del prodotto di quattro parametri perciò si chiama decreto parametri il parametro v che fa riferimento al valore delle singole categorie dell'opera il parametro g che fa riferimento al grado di complessità della singola prestazione il parametro q che è relativo alla specificità della prestazione e il parametro p che si applica al costo economico delle singole categorie quindi di fatto applicando questo decreto parametri riusciamo a calcolare riusciamo a calcolare il compenso per ciascuna attività professionale quindi il compenso tecnico per la spesa tecnica attenzione vi ricordo che noi abbiamo il software compensus quindi H ha sviluppato il software compensus che consente credetemi in maniera veramente semplice di inserire di ricercare all'interno del software la voce di 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 l'intervento da realizzare quindi la la voce professionale e ad esempio non so relazione per relazione architettonica quindi andiamo prima vi ho parlato delle tre fasi preliminare definitiva ed esecutiva quindi mi metterò nelle diverse fasi andrò a definire magari relazione architettonica calcolo strutturale collaudo individuerò le diverse voci andando ad inserire il valore del computometrico quindi del valore dell'opera in automatico il software in maniera veramente molto molto semplice mi guiderà nella definizione dei parametri in realtà lo fa direttamente il software tenendo conto della tabella con i vari valori mi porterà alla alle specifiche quindi alla relazione tecnica con il calcolo del compenso quindi vi invito a visualizzare andate direttamente sul sito www.h.it in alto a destra c'è soluzioni trovate compensus e vedete come funziona il software veramente molto molto semplice e riuscirete a definire in maniera compiuta le spese tecniche secondo quanto previsto dal decreto requisiti ecobonus magari potremmo fare una cosa al rientro perché in molti ce l'avete chiesta questa cosa di fare un esempio di dettagliare degli esempi al rientro quindi parliamo della fine di agosto l'ultima settimana di agosto potremmo immaginare una diretta dove andremo a calcolare queste spese tecniche e a vedere effettivamente come utilizzare compensus per ottenere in maniera molto semplice la distinta con le diverse spese per prestazioni professionali detto questo andiamo ad analizzare un'altra questione molto interessante che fa riferimento ai costi e alle agevolazioni bene i costi e ai limiti delle agevolazioni nel senso che il tecnico dovrà asseverare il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento e dovrà allegare a questa asseverazione il computo metrico attenzione importantissimo come dovrà calcolare la congruità dei prezzi il tecnico per asseverare la congruità dei prezzi si dovrà far riferimento a 1 prezzari regionali quindi i prezzari regionali dovrà andare a effettuare il computo quindi dovrà quantificare i valori delle diverse lavorazioni facendo riferimento ai prezzi unitari riportati nei prezzari regionali tuttavia lo stesso ministro ha affermato che alcuni prezzari alcune regioni hanno fatto un lavoro davvero eccellente altre regioni un lavoro un po' meno eccellente il ministro ha previsto la possibilità di far riferimento al prezzario generale quello prezzi informativi dell'edilizia della DEI la tipografia del genere civile quindi in alternativa ai prezzari regionali il tecnico può far riferimento al prezzario della DEI vi ricordo sono convinto che tutti utilizzerete primus per queste questioni vi ricordo che se avete il prezzario DEI e già stesso loro lo forniscono in formato primus o se avete esigenze di conversione potete contattarci senza nessun problema ma il formato primus sarebbe il DCF quindi su questo non c'è nessun nessun tipo di problema i prezzari regionali invece sono tutti disponibili già in formato DCF nella nostra specifica sezione prezzari net del sito H quindi potete andare su www.h.it slash prezzari trattino net oppure direttamente dalla home troverete in basso il bottoncino prezzari net potrete accedere alla sezione dei prezzari selezionare la regione di riferimento e scaricare il prezzario DCF per effettuare il vostro computo e su questo siamo posti per quanto riguarda questa anche un'altra informazione che ci veniva richiesta qualora i prezzi non fossero o non fossero disponibili nel prezzario né nel prezzario dei è possibile far riferimento a no occorre non è possibile qualora non ci siano né nei prezzari regionali né su dei è necessario effettuare un'analisi dei prezzi per l'analisi dei prezzi si può far riferimento ovviamente ai prezzari regionali oppure si può far riferimento all'allegato i tra poco lo vedremo ricordatevi che si può far riferimento a questi valori riportati nell'allegato i tra poco ci arriviamo ovviamente l'analisi dei prezzi deve essere allegata quindi l'analisi dei nuovi prezzi va allegata all'asseverazione sulla congruità del prezzo eccolo questo è l'allegato i l'allegato i bisogna far riferimento all'allegato i necessariamente per gli interventi che non richiedono l'asseverazione del tecnico quindi sulla questione delle spese se andiamo nella tabella vediamo i vari interventi nell'articolo 2 si faceva riferimento ai diversi interventi la tabella poi prevedeva i diversi requisiti se non è prevista l'asseverazione quella che io avevo scritto in verde in quel caso occorre necessariamente far riferimento a questi massimali di spesa ve li commento rapidamente sono dei massimali parametrizzati a metro quadro a kilowatt di potenza in particolare immaginiamo di intervenire sulle strutture opache orizzontali cioè isolamento delle coperture dunque per l'esterno possiamo far riferimento a un valore massimo pari a 230 euro a metro quadro interno 100 euro a metro quadro copertura ventilata 250 euro a metro quadro quindi questo è i valori massimi poi nel caso di sostituzione serramenti il prezzo è parametrato sul metro quadro quindi serramento dipende dalla zona climatica a b c oppure d e f nel caso della zona climatica a avremo un valore massimo pari a 550 euro a metro quadro oppure 650 se considero anche la chiusura oscurante persiane tapparelle scure e così via 650 euro a metro quadro che diventano rispettivamente 650 e 750 nelle zone climatiche di e ed f per quanto riguarda l'installazione di sistemi di schermatura solari abbiamo valori che vanno da 750 euro a metro quadro fino a 1250 euro a metro quadro in funzione della tipologia di collettori per le caldaie a condensazione abbiamo fino a 35 kilowatt 200 euro a kilowatt per potenze superiori a 35 abbiamo 3000 insomma sono costi parametrati rispetto alla grandezza di riferimento e di fatto rappresentano i limiti massimi ove non ci sia perché questa tabella ha creato un po' di dubbi questa tabella va utilizzata in due casi uno analisi prezzi posso far riferimento a questa tabella o posso far riferimento al prezzario devo far riferimento al prezzario e se necessario faccio riferimento anche questa tabella devo invece utilizzarla qualora non è prevista l'asseverazione del tecnico e su questo credo che abbiamo anche chiarito un attimino tutto quello che è relativo al decreto requisiti ecobonus vediamo rapidamente accedo un attimino alla chat vedo ok vediamo un po' con o senza IVA Framari ci chiede con o senza IVA benissimo questo è stato chiarito i prezzi sono intesi IVA inclusa in realtà o meglio per quanto riguarda la tabella dei prezzi dipende a cosa facciamo riferimento la tabella l'allegato precedente quello dell'allegato I fa riferimento ai prezzi IVA esclusa e vi dico il perché nella prima formulazione del decreto c'era scritto IVA inclusa poi in una seconda formulazione nelle varie bozze che si sono sosteguite è stata corretta in IVA inclusa perché di fatto l'IVA è variabile a seconda dell'intervento nel senso che l'IVA può essere agevolata l'IVA va al 4% per la realizzazione della prima casa realizzazione in questo caso noi stiamo in ristrutturazione altri interventi quindi di sostituzione quindi l'IVA quasi non sarà mai al 4% perché è solo per la nuova costruzione l'IVA al 4% prima casa poi l'IVA può essere agevolata al 10% o può essere ordinaria al 22% di fatto varia in funzione se ci troviamo nella manutenzione che sia essa ordinaria o straordinaria l'IVA è al 10% per le prestazioni professionali per la per la posa in opera sicuramente per quanto riguarda la fornitura ad esempio nel caso di infissi lì si ragiona con la questione dei beni significativi dove il valore è il valore della fattura per la fornitura di un infisso probabilmente il valore della fornitura dell'infisso rappresenta la maggior parte della fattura e quindi in quei casi si divide il valore dell'infisso in due parti una parte equivalente a quella che è la manodopera quindi immaginiamo se l'IVA sull'infisso se l'infisso vale 5000 la manodopera vale 3000 sto inventando dei numeri i 5000 li divido in due 3000 che è uguale al valore della manodopera su 3000 applicherò l'IVA al 10 sui restanti 2000 applicherò al 22 la manodopera ricordiamo va sempre al 10 quindi di fatto andare a considerare un prezzo con o senza IVA potrebbe essere un po' più problematico ma per quanto riguarda i tetti di spesa le definizioni delle spese come negli altri interventi altre agevolazioni fiscali riguardando sempre il ricordiamo che l'incentivo quindi il beneficio è per la persona fisica al di fuori dell'esercizio di impresa quindi va considerata come nelle altre nelle altre interazioni fiscali IVA inclusa ok vediamo un po' allora vediamo un attimino allora categoria catastale di partenza finale si esclude a 8 sì allora ricordiamoci vedo la domanda di Alberto ne sto prendendo qualcuna così a caso categoria catastale di partenza e finale sì allora sono escluse ricordiamoci dagli interventi le categorie catastali A1 A8 e A9 quindi ville signorili castelli ed edifici chiamiamoli ex edifici di lusso per capirci sono esclusi dall'applicazione dell'agevolazione sì credo ci sia un errore sulla tabella dell'allegato sto leggendo il commento di Domenichini credo ci sia un errore sulla tabella dell'allegato 1 per i prezzi massimi relativi all'installazione della caldaia a condensazione sì è 180 infatti non 3.000 lì c'è un errore di battitura esattamente me ne ero accorto anch'io sì lo sistemeremo quanto prima quindi attenzione l'allegato presenta un errore c'è un è riportato male il valore per il massimale per le caldaie a condensazione grazie a Domenichini per la puntualizzazione ok abbiamo visto vediamo se in un condominio se in un condominio uno o due unità immobiliari hanno delle super allora Maurizio ci chiede una questione relativa alle maggioranze condominali non c'è problema sulla questione ci arriveremo tra poco ho preparato proprio una slide ad hoc in particolare vi dico che proprio per superare alcuni possibili limiti in condominio perché ricordatevi per procedere a lavori di ristrutturazione pesante di un condominio sono necessarie delle maggioranze cioè il codice civile in particolare la legge 220 che ha modificato tutta una serie di questioni prevede delle maggioranze ma il codice civile stesso che stabilisce tutta una serie di criteri esistono dei quorum deliberativi e quorum costitutivi per l'assemblea e per i quorum deliberativi si farebbe farebbe riferimento al 50% più uno del valore dell'edificio più la maggioranza dei presenti tuttavia il decreto di agosto ha inserito una precisazione nella nella legge nella legge rilancio e in particolare attenzione questa cosa importantissima si prevede che questa tipologia di interventi possa essere deliberata quindi in condominio si può deliberare la realizzazione di interventi per super bonus con soltanto un terzo del valore significa un terzo dei millesimi più la maggioranza dei presenti questa è una cosa importantissima quindi con il 33% dei millesimi un terzo riusciamo a deliberare i lavori all'interno di un condominio tra l'altro questa non è una novità perché di fatto già la legge 10 legge 10 del 91 prevedeva l'articolo 26 la possibilità di usufruire di una maggioranza semplificata qualora ci fosse una esplicita ci fosse un attestato a suo tempo si parlava di certificato energetico o una diagnosi energetica dell'edificio quindi di fatto il legislatore ha voluto in realtà e il governo ha voluto semplificare la questione delle maggioranze proprio visto che è necessaria l'ape per tutta questa questione è necessaria l'ape sia prima che dopo le maggioranze sono portate al 33% all'un terzo dei millesimi più la maggioranza dei presenti in assemblea quindi questo è importantissimo perché consente di realizzare i lavori in condominio visto che il condominio è uno dei principali beneficiari di questa detrazione anche con maggioranze semplici bene poi vediamo è importante se intervengo nel blocco l'impianto termico deve essere ecco Antonino Iozzia ci chiede se intervengo solo nell'involucro l'impianto termico deve essere esistente allora sì l'impianto termico deve essere esistente questo è stato chiarito anche nel passato fate riferimento alla nuova definizione di impianto termico l'ho detto all'inizio quindi non solo per la sostituzione di impianto termico io posso accedere ad eco bonus quindi interventi di riqualificazione energetica sempre che sia già esistente l'impianto termico quindi la risposta è sì ok io direi di andare un attimino avanti altrimenti non riusciamo a concludere con i nostri decreti quindi continuiamo con le slide eravamo al decreto asseverazioni cercherò di essere un po' più veloce su questa parte dunque la prima cosa il decreto asseverazioni ci introduce le definizioni di asseverazione e polizza di assicurazione che cos'è l'asseverazione fondamentale ricordatevi che in tutto questo il tecnico gioca un ruolo fondamentale in tutta la questione delle detrazioni perché è lui che andrà ad asseverare il rispetto di tutta una serie di requisiti e il rispetto dei prezzi quindi di fatto si deve porre a garanzia del committente si deve porre come garante nei confronti del committente per la realizzazione di interventi e soprattutto per l'ammissibilità delle spese a beneficio quindi ha un ruolo fondamentale sia in tema di responsabilità sia in tema di azioni da intraprendere quindi che cosa è l'asseverazione è una dichiarazione sottoscritta dal tecnico abilitato ai sensi del DPR 445-2000 quindi deve far riferimento agli articoli 47, 75 e 76 con la quale il tecnico stesso attesta che gli interventi di cui ha l'allegato a quelli che abbiamo visto prima requisiti del co-bonus sono gli interventi sono rispondenti all'allegato a nonché la congruità dei costi degli stessi interventi quindi abbiamo detto requisiti sono soddisfatti allegato a che abbiamo visto prima io li ho scritti in verde in quel elenco puntato e i costi sono congrui rispetto ai prezzari di cui abbiamo parlato poc'anzi e su questo nessuna novità che cos'è una polizza di assicurazione un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato con un'impresa autorizzata all'esercizio del ramo 13 poi vedremo anche delle precisazioni delle entrate o con un'impresa estera in realtà ve lo anticipo già ora le entrate hanno chiarito che l'impresa deve essere comunitaria quindi non può essere extra deve risiedere all'interno della comunità europea dopo lo vedremo ed esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della pubblica italiana vabbè dopo vedremo allora come si fa l'asseverazione l'asseverazione deve contenere una serie di elementi fondamentali li vediamo un attimino insieme ricordandoci che ci sono dei modelli eccoli qui che prevedono già tutti i valori da definire io vi invito vivamente a leggervi sempre in quella cartella che avete scaricato quella con lo zip completo ci sono tutti i modelli allegati ci sono nella cartella mise trovate questi modelli semplicemente leggendovi l'allegato 1 e 2 l'allegato 1 sulle asseverazioni vedrete di cosa si tratta capirete tutta una serie di questioni ci sono una serie di dubbi che saranno fugati sicuramente da una semplice lettura di questo doc che chiarirà tante cose nel frattempo rapidamente come si fa l'asseverazione allora gli elementi essenziali che costituiscono l'asseverazione appena di invalidità attenzione sono i seguenti la prima cosa dobbiamo indicare una PEC dove ricevere eventuali comunicazioni o anche contestazioni da parte dell'amministrazione finanziaria quindi da parte dell'entrata del fisco dichiarazione che dobbiamo dichiarare espressamente nell'asseverazione che il massimale della polizza allegata quindi va allegata anche una copia è adeguato al numero di attestazioni o asseverazioni prodotte e soprattutto anche agli importi degli interventi oggetto delle asseverazioni o attestazioni quindi devo dichiarare questa devo dichiarare questa adeguatezza della mia polizza professionale poi l'abbiamo detto copia della polizza deve essere allegata non sono ah no quindi era ho detto non sono valide ecco lo riporta anche il decreto asseverazioni non sono valide non sono valide polizza di assicurazione stipulate con le imprese di assicurazione extracomunitaria ok quindi lo prevede lo stesso decreto asseverazioni il tecnico dichiara che il massimale della polizza è adeguato e comunque non può essere inferiore a 500.000 l'asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi quindi finali a fine lavori o anche può essere relativa a uno stato di avanzamento a riguardo ricordiamoci che sono consentiti al massimo due stati di avanzamento e ciascuno stato di avanzamento deve far riferimento ad almeno il 30% dell'importo totale di quella specifica prestazione di quell'intervento complessivo si utilizzano gli appositi modelli allegati come si fa praticamente quindi vi ho invitato a leggere le asseverazioni per capire cosa dovremo asseverare ma come si farà poi realmente l'asseverazione andrà compilata su un portale online dell'Enea che metterà presto a disposizione una volta compilate tutti questi dati che già ritrovate nel doc li compilate all'interno del portale dovrete stampare il modello generale dovrete firmarlo su tutte le pagine quindi non solo l'ultima ma su tutte le pagine mentre solo sull'ultima pagina andrà a posto il timbro professionale a questo punto si effettuara una scansione della dichiarazione e sarà caricata quindi si farà l'upload all'interno del portale Enea dopo di che l'Enea ci fornirà una ricevuta e un codice identificativo attribuito dal sistema un po' come per le certificazioni energetiche che dopo il caricamento dell'attestato di prestazione energetica viene fornito il codice identificativo il meccanismo è lo stesso quindi si caricherà la dichiarazione e si otterrà questo codice inviare entro 90 giorni dal termine dei lavori per i lavori ultimati questi sono i modelli inoltre il decreto asseverazioni definisce anche quelli che saranno i controlli a campione non solo documentali ma anche quelli in sito quindi attenzione l'Enea ha l'obbligo di verificare di effettuare controlli anche in sito non soltanto documentali quindi in particolare dal decreto si evince che l'Enea effettuerà controlli a campione nel limite minimo del 5% delle asseverazioni annualmente presentate quindi ogni 100 asseverazioni almeno 5 saranno controllate a campione da Enea effettuerà i controlli su tutte le asseverazioni relative agli interventi effettuati prima del 1 luglio quindi se ci si chiede perché questa cosa se ricordate la norma prevede la necessità di la possibilità di usufruire della detrazione per le spese sostenute dal 1 luglio al 31 dicembre 2021 non si parla di inizio lavori i lavori potrebbero anche essere già iniziati l'importante che la spesa sia effettuata a partire dal 1 luglio quindi di fatto tutti quegli interventi che sono già iniziati e che saranno oggetto di super bonus 110 saranno controllati dall'Enea quindi attenzione a questa cosa inoltre entro 60 giorni dall'entrata in vigore l'Enea dovrà elaborare un programma di controlli a campione da sottoporre a controllo documentale e come vi ho detto prima controllo in situ i quali dovranno essere almeno il 10% delle istanze sottoposte a controllo a campione quindi di fatto il 5% a campione almeno il 10% di quelle soggette a campioni saranno controllate in situ quindi vuol dire che verificheranno realmente la realizzazione dei lavori attenzione a questa cosa benissimo quindi abbiamo visto ok ci siamo nei tempi dobbiamo accelerare un pochino più o meno credo che abbiamo fugato tanti dubbi che avevamo abbiamo tante certezze probabilmente ce ne saranno ancora altri non lo nego però più o meno la maggior parte dei quesiti sono stati dei dubbi principali sono stati fugati vediamo rapidamente quali sono i contenuti del in realtà le entrate hanno dapprima pubblicato la guida a fine luglio la guida che è esplicativa non fa solo dei carattere ci sono delle fac fa degli esempi pratici ma non dà indicazioni molto precise poi c'è la circolare 24 e poi c'è il provvedimento dell'8 dell'8 agosto parliamo rapidamente della circolare 24 dell'8 agosto la prima cosa da sottolineare che in qualche modo potrebbe lasciare perplessi e di fatto l'agenzia delle entrate con questa definizione contraddice quello che ha detto qualche qualche un qualche mesetto fa in una in una risposta di qualche mesetto fa vediamo cosa prevede al punto 1.1 in materia di condomini sono messi al super bonus gli interventi effettuati dai condomini di isolamento termico che interessano l'involucro edilizio nonché gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici stessi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati quindi sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati questo l'abbiamo visto è il C il famoso C2B benissimo quindi si parla dei condomini bene ora le entrate cercano di capire quale sia la volontà del legislatore tenuto conto della locuzione utilizzata dal legislatore riferita espressamente ai condomini e non alle parti comuni di edifici ai fini dell'applicazione dell'agevolazione l'edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica vigente quindi quella prevista e su questo ci sono già una serie di potremmo dire una serie di cose leggevo qualcosa vabbè già qualcuno dice non è vero che non si parla di parti comuni perché in realtà c'è scritto qui nonché interventi realizzati su parti comuni il vero problema qual è? che abbiamo sempre in base a una serie di risposte già date dalle entrate potrebbero partecipare quindi potrebbero accedere al super bonus 110 i singoli proprietari quindi l'unico proprietario di un condominio costituito da più unità immobiliari secondo la risposta che è stata fornita a maggio del 2020 quindi di recente può accedere ai lavori sulle parti comuni quindi di fatto si intende come condominio anche quello appartenente ad un unico proprietario nella nuova definizione data dall'entrata attenzione i condomini appartenenti ad un unico proprietario sono completamente definitivamente esclusi dall'applicazione del super bonus questo deve essere chiaro secondo questa interpretazione ora vedremo quindi le entrate ci dicono che l'edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio cosa vuol dire costituito in condominio non vuol dire che deve avere un codice fiscale ora vediamo a tal fine si ricorda che il condominio costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste una proprietà individuale dei singoli condomini ad esempio appartamenti che hanno appartamenti o altre unità immobiliari tipo box cantina eccetera e una comproprietà sui beni comuni dell'immobile quindi proprietà individuale comproprietà delle parti comuni questa è la definizione di condominio il che vuol dire che ci siano almeno due proprietari quindi il condominio può svilupparsi sia in senso verticale che in senso orizzontale la nascita del condominio si determina automaticamente questo lo prevede il codice civile senza che sia necessaria alcuna deliberazione nel momento in cui più soggetti costruiscono su un suolo comune oppure quando l'unico proprietario di un edificio ne cede a terzi quindi immaginiamo il costruttore finché il costruttore realizza un edificio è l'unico proprietario nel momento in cui cede a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva in quel momento si ha l'oggettiva condizione del frazionamento il che vuol dire la creazione automatica del condominio ora la stessa entrata afferma che il condominio minimo è quello in cui sono incluse almeno meno di fino a otto unità immobiliari e inoltre precisiamo subito che i condomini che non ne hanno l'obbligo quindi che non avendone obbligo non abbiano ancora nominato un amministratore non sono tenuti a richiedere il codice fiscale questo è importante quindi in questi casi ad esempio immaginiamo un fabbricato dove ci siano più proprietari più di un proprietario quindi più unità immobiliari di più proprietari in questo caso non è necessario che sia costituito il condominio formalmente quindi con nomina di amministratore del codice fiscale ma è possibile usufruire del super bonus utilizzando il codice fiscale del condomino che effettua tutti gli adempimenti connessi quindi questa precisazione è importantissima l'avevamo ipotizzato già lo avevamo detto ma è ufficialmente chiarito dall'entrata che nei condomini inferiori cioè quando non c'è l'obbligo di nomina dell'amministratore non c'è l'obbligo di codice fiscale può essere un singolo condomino col proprio codice fiscale effettuare tutti gli adempimenti dopodiché dovrà ripartire le spese sulla base di una tabella millesimale sulla base di un accordo con gli altri condomini benissimo il contribuente è comunque tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati sulle parti comuni dell'edificio e non su una parte singola benissimo quindi condomini sì ma no all'unico proprietario secondo la circolare 24 questo è quello che ho detto poc'anzi il super bonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accadastate di un edificio posseduto da un unico proprietario quindi se io ho un edificio di un unico proprietario con più unità immobiliari singolarmente accadastate non ho non ho un condominio un condominio secondo le entrate e comunque non ho anche nel caso di comproprietà fra più soggetti attenzione come vi ho detto c'era stato un chiarimento nella circolare nelle circolari di maggio 2020 anche luglio 2019 dove si diceva che anche l'unico proprietario di 5 unità immobiliari poteva considerarsi visto che erano le parti comuni si potevano considerare condominio adesso è stato chiarito che questa questa situazione non è applicabile quindi è chiaro che per intervenire su un qualcosa di questo tipo il proprietario dovrà accedere a terzi almeno un'unità immobiliare quindi ci vogliono almeno due persone per costituire un condominio poi chiariamo una cosa importantissima tantissime domande sono arrivate su questa questione professionisti imprenditori cosa significa se sono professionista posso usufruire del super bonus per ovviamente nel condominio lo sappiamo e si quando attenzione quando si parla di condominio ed è il condominio il beneficiario non c'è problema se sono una persona fisica l'abbiamo chiedito tantissime volte non c'è problema se sono una persona fisica o una società nessun problema o meglio le entrate hanno inserito anche qualche piccolo qualche piccola precisazione ora la vedremo ma il problema è quando mi trovo su un edificio unifamiliare la definizione di unifamiliare l'abbiamo vista nel decreto asseverazioni ed è ripresa fedelmente dalla circolare quindi è quella ricordiamoci che i destinatari lo chiariscono le entrate del super bonus sono le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa arti e professioni quindi ok a tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello stato italiano benissimo si deduce che la detrazione si riferisce a unità immobiliari questa locuzione fa riferimento a unità immobiliari non riconducibili ai beni relativi all'impresa quindi articolo 65 tuir oppure ai beni strumentali articolo 54 tuir strumentali per l'esercizio di arti e professioni quindi ne consegue che la detrazione spetta al professionista quindi imprenditore o professionista su un'unità immobiliare che non sia un bene dell'impresa o un bene strumentale alla sua attività quindi se se ho uno studio professionale e svolgo la mia professione all'interno di quella di quella unità abitativa facente parte di un condominio ok ma se ho uno studio professionale e un'unità abitativa singola e faccio parte di quella e lavoro in quella unità abitativa non posso accedere al super bonus perché è un bene strumentale alla mia attività ne consegue che la detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa arti e professioni qualora le spese sostenute abbiano oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all'ambito privatistico quindi se l'immobile è casa mia ci abito ma non ci lavoro e sono un professionista anche in regime forfettario ora vedremo posso tranquillamente accedere al super bonus questo è un chiarimento l'avevamo già ipotizzato in passato ma è stato ufficialmente chiarito dalle entrate ora quali sono gli edifici agevolati importante le entrate ci chiariscono che gli interventi agevolati possono essere realizzati solo su queste tipologie di edificio e basta parti comuni di edifici residenziali in condominio sia trainanti sia trainati quindi se ho un condominio ricordiamoci che il condominio deve essere maggiormente residenziale lo vediamo tra poco almeno il 50% vediamo cosa significa quindi parti comuni di edifici residenziali in condominio sia trainanti che trainati quindi sia gli elementi gli interventi C1 A B e C sia C2 o C4 o C6 quindi no C4 perdono sia C2 o C6 quindi fotovoltaico ed ecobonus sono i trainati poi edifici residenziali quindi devono essere abitativi unifamiliari e relative pertinenze sia trainanti che trainati quindi gli interventi energetici vanno effettuati su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze quindi le pertinenze sono in genere C1 C6 C7 tettoie garage depositi possono usufruire dell'aggeolazione gli interventi realizzati sulla pertinenza dell'edificio residenziale ovviamente devo fare anche l'intervento sull'edificio non posso farlo solo sulla pertinenza dovrebbe essere così su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenza questo è il caso chiamiamo delle villette a schiera o anche di condomini verticali dove ad esempio al piano terra ci sia una unità immobiliare che abbia accesso non dal portone principale di tutti gli altri ma abbia un accesso indipendente se questa unità immobiliare è anche autonoma funzionalmente autonoma quindi vuol dire l'abbiamo visto prima cosa vuol dire a quel punto posso considerare questa unità immobiliare all'interno del condominio come unità autonoma potrò realizzare gli interventi autonomamente benissimo quindi a prescindere dal condominio quindi abbiamo visto il punto 3 il punto 4 su singole unità immobiliari e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio in questo caso stiamo parlando degli interventi trainati cosa vuol dire questo chiariamoci immaginiamo di essere in un condominio ipotizziamo di realizzare un cappotto che intervenga su almeno il 25% dell'involucro perdone immaginiamo di intervenire con l'isolamento termico dell'involucro impegnando almeno il 25% della superficie disperdente quindi oggetto di intervento almeno il 25% della superficie disperdente benissimo siamo in un condominio è un elemento trainante per il condominio tutte le spese per il cappotto termico costituiscono l'intervento a carico del condominio quindi il beneficiario della derrazione sarà il condominio il condominio che secondo una tabella di ripartamento quindi secondo un'assemblea condominiale assemblea delibera dell'assemblea ci sarà darà la possibilità di effettuare i lavori quindi assemblea condominiale e saranno realizzati i lavori ci sarà una tabella di ripartizione spese e benefici si ripartiscono tra i diversi condomini secondo la tabella e fin qui ok se l'edificio condominiale effettua l'intervento trainante si abilitano per tutte le unità immobiliari appartenenti al condominio la possibilità di effettuare gli interventi trainati questo quarto punto dell'agenzia delle entrate cioè in pratica all'interno della singola abitazione di tizio che è un condomino del condominio X quindi tizio condomino del condominio X avrà la possibilità di effettuare lavori privati cioè sulla sua proprietà privata del tipo C2 quindi ecobonus significa che tizio potrà sostituire le finestre potrà migliorare inserire building automation oscuramenti e tutto il resto quindi tutti gli interventi relativi all'ecobonus potranno essere effettuati da tizio ovviamente se tizio volesse effettuare questi interventi chiamiamoli trainati senza l'intervento principale non potrebbe farlo e questo è chiarito una volta per tutte poi i mobili esclusi come singole unità allora sono esclusi dal beneficio relativo a singole unità immobiliari gli immobili strumentari e le attività di impresa l'abbiamo visto le unità immobiliari che costituiscono l'oggetto della propria attività beni patrimoniali appartenenti all'impresa attenzione abbiamo chiarito che si tratta di unità singole qualora invece ricadano in condominio non c'è nessun problema quindi possono fruire del super bonus in relazione alle spese sostenute per interventi sulle parti comuni degli edifici in condominio in tal caso a prescindere dalla circostanza che gli immobili siano possenuti o detenuti dai predetti soggetti siano immobili strumentali o costituiscono quindi l'immobile strumentale in condominio può usufruire delle detrazioni che aspettano al condominio perché saranno ripartite secondo una tabella millesimale e questo anche è chiarito qui c'erano tutta una serie di dubbi abbiamo detto più volte che il numero massimo delle unità immobiliari singole è 2 mentre per gli interventi in condominio non ci sono limiti e anche questo è chiarito forfettari ci si chiede ma se il super bonus è una misura fiscale che agisce direttamente sull'IRPEF chi non è tenuto a versare IRPEF ad esempio per coloro che possiedono redditi assoggettati a tassazione separata o in posta sostitutiva ad esempio il regime forfettario può accedere al beneficio pur non avendo IRPEF la risposta è sì perché in questo caso se vi ricordate io ho sempre parlato di tre opzioni opzione 1 usufruisco direttamente del beneficio opzione 2 lo cedo all'impresa sotto forma di sconto in fattura opzione 3 lo cedo a una banca un istituto di credito ok questi soggetti possono immaginare di applicare l'opzione 2 o la 3 non potendo usufruirne direttamente questo è chiaro in alternativa i contribuenti eccolo qui possono optare per la cessione o per lo sconto in fattura quindi chiarissimo anche questo questa è una novità cioè attenzione a questa cosa gli edifici non completamente residenziali questo è importante in caso di edifici realizzati sulle parti comuni di un edificio le relative spese possono essere agevolate soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza quindi per le parti comuni l'edificio deve essere completamente residenziale c'è un tuttavia qualora la superfici e qualora le superfici destinate a residenza ricomprese nell'edificio siano superiori al 50% è possibile ammettere alla derrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengono le spese per le parti comuni cioè cosa significa significa che di fatto l'agenzia delle entrate immagina che l'edificio debba essere completamente residenziale quindi ok per tutti i partecipanti al condominio nessun problema se però ci sono attività diverse quindi non so ci saranno degli uffici ci saranno dei negozi al piano terra altre attività è necessario che la superficie destinata a residenza quindi la superficie abitativa sia di almeno il 50% rispetto alla superficie totale e in tal caso è possibile ammettere alla derrazione anche il proprietario del negozio oppure dell'ufficio quindi attenzione a questa a questa specifica delle entrate se la percentuale risulta inferiore è ammessa la derrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinati ad abitazione e basta quindi vuol dire che non potranno soffrire i proprietari di immobili non residenziali quindi qui è spiegato tutto bene rileggetela con attenzione sto andando un po' di fretta perché dobbiamo concludere esclusioni non agevolazione l'agevolazione non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili e non possono esercitare l'opzione per lo sconto o la cessione quindi se non posso accedere né all'opzione 1 né all'opzione 2 e all'opzione 3 a quel punto non posso usufruire dell'agevolazione si tratta ad esempio delle persone fisiche non fiscalmente residenti in Italia che detengono l'immobile oggetto degli interventi in base a un contratto di locazione o di comodato attenzione a questa specifica un caso particolare per il quale è esclusa l'agevolazione sono esclusi dalle agevolazioni in esame gli organismi di investimento collettivo del risparmio vabbè perché quelli che non sono soggetti ad IRAP sono esclusi vabbè gli organismi di investimento collettivo di risparmio che non sono soggetti ad IRAP ok ok ai proprietari di solo i pertinenzi un'altra cosa interessante in caso di interventi realizzati su parte comune la detrazione spetta anche ai proprietari ai possessori o ai detentori i detentori magari stanno in affitto e sostengono loro la spesa di sole pertinenze come ad esempio box o cantine anche se non hanno la proprietà o la detenzione dell'immobile dell'immobile abitativo ok e questo è un altro chiarimento delle entrate visti di conformità ne abbiamo parlato più volte non c'è nulla da dire ok attenzione che le entrate specificano che nel caso si accerti la mancata sussistenza anche parziale dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta l'agenzia procederà al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante maggiorate di interessi e sanzioni nei confronti del beneficiario quindi qualora ci sia non ci siano i requisiti il beneficiario dovrà restituire con gli interessi e con le sanzioni quindi la sanzione generalmente del 30% gli importi non gli importi non legittimi quindi in questo caso è chiaro che proprio per questo il tecnico dovrà dotarsi di un'assicurazione professionale che ha garanzia e tutela dell'operato quindi delle dichiarazioni ricordiamo che è prevista la possibilità in presenza di concorso della violazione di contestare anche la responsabilità insolito del fornitore che ha applicato lo sconto o dei cessionari per il pagamento dell'importo e dei relativi interessi però attenzione questo è un chiarimento questo chiarimento è dovuto ci si chiede cosa accade se viene revocata l'agevolazione al beneficiario se questa agevolazione poi è stata ceduta a terzi se il terzo è in buona fede quindi questo l'ha specificato se sono entrate nella guida se il terzo è in buona fede e quindi non si rilevi una corresponsabilità nelle dichiarazioni mendaci quindi il terzo inteso o come impresa che ha scontato i lavori quindi che ha acquisito il credito e ha scontato i lavori oppure la banca che ha acquisito il credito quindi qualora si rilevi un'irregolarità facente capo solo al contribuente non risponde il terzo il terzo cessionario quindi l'impresa o la banca invece qualora si ravveda anche la responsabilità del terzo cessionario in tal caso è tenuto dovrà rispondere in solido con il contribuente e questo è anche chiaro un altro importante chiarimento è l'utilizzo del credito d'imposta i cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito d'imposta esclusivamente in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario attenzione il credito d'imposta acquisito dall'impresa quindi utilizzabile dall'impresa può essere utilizzato solo a partire dal giorno 10 del mese successivo alla ricezione della comunicazione da parte delle entrate e comunque non prima del primo gennaio dell'anno successivo perché molti pensavano che anno di sostenimento tante domande ci avete fatto su questo anno di sostenimento della spesa 2020 la detrazione IRPEF maturava a partire dall'anno 1 cioè 2021 analogamente per la detrazione d'imposta che dovrà seguire la detrazione IRPEF quindi di fatto se io cederò nel 2020 il mio credito d'imposta all'impresa X l'impresa X non potrà utilizzarlo prima del primo gennaio del 2021 e comunque a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione dell'opzione all'entrata ora vedremo anche come si comunica la quota di un'altra cosa importante la quota di credito non utilizzato entro il 31 dicembre non potrà essere utilizzata per gli anni successivi quindi nel richiesta rimborso ulteriormente ceduta quindi occorre utilizzare il credito di imposta nell'anno in corso ok di fatto le entrate forniscono anche i modelli per l'esercizio dell'opzione ora ve li faccio vedere la comunicazione questo è il provvedimento dell'8 agosto previsto le opzioni sono lo sconto in fattura o la cessione del credito l'abbiamo detto più volte la comunicazione per l'esercizio dovrà essere inviata a partire dal 15 ottobre 2020 esclusivamente in via telematica questo perché perché le entrate hanno necessità bisogno di mettere a punto il portale quindi probabilmente Sogei dovrà mettere a punto il portale ci vuole ancora un po' di tempo la comunicazione potrà essere inoltrata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione chiaro? quindi entro il 16 maggio devo comunicare l'opzione sconto in fattura o cessione del credito e questo è chiaro non si potrà fare prima del 15 ottobre questi sono i chiarimenti del provvedimento inoltre la comunicazione dovrà essere inviata a decorrere dal quinto giorno successivo al rilascio da parte del al rilascio della documentazione da parte dell'Enea abbiamo visto prima che l'Enea fornisce un codice a partire dal quinto giorno successivo si potrà inviare la comunicazione all'entrate per l'opzione per annullare l'opzione il contribuente a di tempo fino al quinto giorno successivo a quello di invio e questi sono i modelli previsti per l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura ok benissimo io direi che con questo di fatto abbiamo il tema questa ve l'ho già detta prima è una è una una un vantaggio nei confronti dei condomini in particolare viene l'articolo 61 del DL Agosto favorisce l'approvazione delle delibere dell'assemblea condominiale in particolare come già detto all'inizio durante la diretta è sufficiente la maggioranza dei presenti e un terzo dei millesimi abbiamo visto che introduce proprio una modifica all'articolo 119 della legge che prevede appunto che questi lavori pesanti possano essere deliberati in maniera opportuna ok detto questo io con questo ho concluso vi ricordo rapidamente una cosa importante per quanto riguarda l'utilizzo dei nostri software potete già utilizzarli tranquillamente quindi per quanto riguarda i DILUS per il Superbonus nessun problema per quanto riguarda Termus siete già a posto con il calcolo dell'APE ricordatevi che non potete utilizzare DOCET potete utilizzare Termus presto ci saranno novità per quanto riguarda l'APE convenzionale e tutti i requisiti da rispettare detto questo io con questo ho concluso vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo seminario al prossimo webinar vi ricordo rapidamente se non l'avete ancora fatto scaricate le slide che sono disponibili su www.h.it slash slides superbonus slides trattino superbonus trattino 110 troverete queste slide troverete troverete anche tutta la documentazione le norme di riferimento vi ricordo purtroppo abbiamo davvero poco tempo vi ricordo non riusciamo a rispondere ad altre domande vi ricordo che potete comunque utilizzare la sezione delle FAQ dove chiederei alla regia di inserire in sovrimpressione l'indirizzo a cui inviare eventuali domande proveremo a rispondere direttamente lì sulle FAQ e inseriremo eventualmente tutte le novità direttamente in quella pagina vi ricordo infine che la redazione di Biblus sarà in vacanza fino al 23 di agosto quindi le attività riprenderanno regolarmente a partire dal lunedì successivo dal 24 agosto quindi detto questo io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo webinar un saluto da Nicola e da tutta la redazione di Biblus e H Software ciao a tutti ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti